La notte di fuoco in Turchia si conclude col fallimento del golpe ordito da una fazione dell'esercito contro il presidente Erdogan. A Istanbul e Ankara bombardamenti e scontri, poi i golpisti si sono arresi e di 190 morti e migliaia di feriti il bilancio provvisorio. La pagheranno cara, ha detto Erdogan, 5 generali e 29 colonnelli già sollevati dai loro incarichi, oltre 1.500 i militari arrestati. Decisivo per il fallimento del golpe, il videomessaggio che Erdogan aveva lanciato invitando i cittadini a scendere in piazza, accolto dalla folla in festa, accusato i responsabili di aver attentato all'unità e alla sovranità nazionale. USA e Germania si sono schierati al fianco del governo democraticamente eletto. Il premier Matteo Renzi esprime sollievo per il prevalere della stabilità e delle istituzioni democratiche. 36 ore dopo l'ISIS ha rivendicato l'attentato di Nizza, che è costato la vita 84 persone. L'autore scrive il califato, è uno dei nostri soldati, intanto sono 5 le persone in stato di fermo. Per possibili legami con l'attacco sulla promenade, il presidente François Hollande ha convocato per oggi un secondo consiglio di sicurezza. Ore di ansia per i molti italiani dispersi dall'unità di crisi della Farnesina, si apprende che sono 31 i connazionali ancora da rintracciare. Non si esclude ve ne siano tra le 16 vittime ancora da identificare. Tra i tre ricoverati uno è grave, polemiche sulla sicurezza beffata dal killer del tir, al quale è bastato dire che stava consegnando gelati. Ad Andria celebrati i funerali di 13 delle 23 vittime dell'incidente ferroviario in Puglia. In prima fila il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la presidente della Camera, Boldrini, il ministro delle infrastrutture del Rio e il governatore della Puglia, Michele Emiliano, il vescovo di Andria, Luigi Manzi. Nell'Omelia ha detto che non si pensa alla vita delle persone, ma alla convenienza e all'interesse, le nostre terre come periferia. Mi aspetta un lavoro pazzesco, ora serve velocità. Urbano Cairo commenta la vittoria nella corsa per il controllo di RCS. La sua offerta pubblica di scambio e acquisto raccoglie il 48,8% del gruppo editoriale del Corriere della Sera. La cordata cappeggiata da Andrea Bonomi, sostenuto da Mediobanca, Diego Della Valle, Pirelli, Unifol, si ferma al 37,7%. Buongiorno a tutti, benvenuti al telegiornale della Sette. E allora, un colpo di stato fallito in Turchia. Cominciamo da qui, dalla lunga e difficile, drammatica notte della Turchia. Intorno alle 22, per alcune ore, i militari hanno preso il controllo delle città principali Ankara e Istanbul, bloccati i ponti, la TV di stato controllata e il presidente Erdogan che per molte ore ha sorvolato sui cieli. E dunque ci sono state scene di guerra civile, c'è stato molto sangue, quasi 200 morti. Il bilancio è di quasi 200 morti e oltre mille arresti perché, lo dicevamo, il colpo di stato è appunto fallito. Stamattina il Premier, il Dirin, ha detto che è una macchia nera sulla democrazia turca e i golpisti saranno severamente puniti. Ma insieme ripercorriamo la lunga notte della Turchia. L'immagine simbolo del golpe fallito è l'arresto di alcuni dei 2839 militari, epilogo della notte più lunga per la Turchia. Una notte molto confusa con alcuni punti ancora poco chiari e con un bilancio in continuo aggiornamento, come i 161 morti tra civili e 1440 feriti, secondo i dati del primo ministro turco. Come la notizia tutta da verificare che ci sarebbe ancora un gruppo di militari asserraiato nel quartial generale del comando delle forze armate ad Ankara. Ma questo è il punto di arrivo di un tentativo di colpo di stato che è iniziato alle 22 di ieri sera, alle 21 ora italiana. I militari chiudono i due maggiori ponti sul Bosforo a Istanbul, si sentono alcune esplosioni ad Ankara e i caccia sorvolano le principali città turche. Poco dopo viene preso il controllo della tv di stato turca e i militari annunciano di avere il comando del paese. Dichiarano la vittoria, spiegano che la presa di potere serve a ripristinare la laicità dello stato, la democrazia e il rispetto dei diritti umani, la libertà. Il cielo è sorvegliato dagli F-16, a terra ci sono i carri armati a pattugliare le strade. Le città sono in tilt, per strada la gente scappa ma non sa dove andare. Chiuso anche lo spazio aereo i golpisti hanno preso possesso anche dell'aeroporto a Taturka Istanbul. Ci sono diversi scontri, esplosioni in alcune caserme, scontri di guerriglia in strada tra polizia fedele ad Erdogan e l'esercito custode della laicità dello stato della mezzaluna. Si sentono spari ed esplosioni, i ponti sono bloccati, circolano immagini di code ai bancomat e ai supermercati, i social network sono chiusi. Poi alle 23.30 italiane il colpo di scena. Viene trasmessa in televisione una videochiamata di Erdogan, una sorta di nemesi, proprio lui che aveva vietato i social. Il presidente turco chiede a tutti di fare la loro parte, le persone iniziano a muoversi. La situazione cambia, le piazze iniziano ad affollarsi a sostegno del sultano, sventolano le bandiere della Turchia e sono migliaia le persone che protestano contro i mezzi blindati dell'esercito. Erdogan è a bordo del jet presidenziale e si dirige verso la Germania, che però non ha consente all'atterraggio. Le notizie che si susseguono raccontano di altri tentativi fatti con Londra e forse l'Italia. All'una e mezza il capo dell'intelligence comunica che il colpo di Stato è fallito, l'aereo presidenziale rientra a Istanbul. Coloro che hanno pianificato questo colpo di Stato, ha detto Erdogan al suo rientro, pagheranno duramente. Oggi il vicepresidente dell'HP infatti fa sapere che il governo turco sta valutando il ripristino della pena di morte per i golpisti, una misura abolita dal 2004 dopo le pressioni della comunità internazionale. Allora, questo è il racconto, la cronaca di questa lunga notte, una notte che ha tenuto con il fiato sospeso davvero i governi di tutto il mondo, alla fine Stati Uniti, la Nato, la Germania si sono schierati con il presidente Erdogan, il governo democraticamente è stato detto eletto e naturalmente la Turchia è strategicamente importante, l'instabilità del paese getterebbe insicurezza su tutto il Mediterraneo, la sicurezza del Mediterraneo e c'è naturalmente la questione dei migranti e anche il rapporto con la Siria. Facciamo un quadro. Gli Stati Uniti vedono con grandissima preoccupazione quel che sta succedendo in Turchia. chiediamo a tutte e due le parti di mostrare moderazione, di evitare ogni violenza e comunque di sostenere il governo democraticamente eletto. È il messaggio del segretario di Stato americano John Kerry la notte scorsa a segnare forse uno dei punti di svolta nella storia di questo tentativo di colpo di Stato. L'accenno al governo democraticamente eletto spegne subito qualunque speranza da parte dei militari golpisti di ricevere sostegno dalla Casa Bianca e dalla comunità internazionale. E anche la cancelliera da parte sua è subito chiarissima. In Turchia deve essere rispettato l'ordine democratico, dichiara Angela Merkel. A tremare infatti è un gigante, un alleato chiave che gli Stati Uniti e neanche l'Europa, soprattutto in un momento come questo, possono permettersi di vedere precipitare nel caos. Il secondo esercito più potente della Nato dopo quello americano, un paese di 80 milioni di abitanti che si estende come un ponte tra le terre dove si annida l'Isis e l'Europa. Un presidente, Recep Tayyip Erdogan, che pochi mesi fa ha siglato con Bruxelles un accordo fondamentale per fermare il flusso dei migranti, che salivano ad ondate lungo la penisola balcanica attraversando con mezzi di fortuna il mare Egeo. Il paese che con la concessione della base aerea di Ngirlik nella penisola anatolica ha offerto agli alleati occidentali l'asset più importante finora nella lotta contro lo Stato islamico, il punto di partenza delle missioni dell'alleanza che hanno colpito con sempre maggiore efficacia la cosiddetta capitale del califato, Raqqa, e le zone conquistate dall'avanzata degli jihadisti. Il paese diga che finora ha assorbito oltre un milione di profughi in fuga dalla Siria. Il paese che se fosse scoppiato una guerra civile e se fosse quindi precipitato nel caos non solo avrebbe potuto allentare i controlli ma addirittura riversare sull'Europa una nuova marea di richiedenti asilo. E' un paese infine che ha già al suo interno da gestire l'eterna questione kurda, che il collasso del regime siriano e la presenza di quella che è di fatto una regione autonoma kurda nel nord dell'Iraq ha reso sempre più attuale rinfocolando le speranze dei separatisti e riavviando gli scontri armati e gli attacchi terroristici. La Turchia di Erdogan insomma come l'ennesima polveriera forse addirittura la più preoccupante alle porte dell'Europa e questo spiega la grande cautela della comunità internazionale che non ama Erdogan e certo non si fa illusioni sulla sua clemenza ma che si è comunque schierata al suo fianco nel nome della stabilità. La Turchia è un alleato chiave per l'Unione, ha detto stanotte il Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk e poco fa è arrivata una dichiarazione di Matteo Renzi. La preoccupazione per una situazione fuori controllo in un partner nato come la Turchia lascia spazio al prevalere della stabilità e delle istituzioni democratiche, ha detto il Presidente del Consiglio. Auspichiamo che non ci siano rovesci e pericoli per la popolazione e per tutti gli stranieri presenti in Turchia. E dunque Erdogan, lo avete sentito, rimane naturalmente al potere, lo aveva già fatto questa notte, aveva invitato con un messaggio via FaceTime i cittadini a invadere le piazze, lo ha fatto ancora questa mattina, restate in piazza ha detto c'è il rischio di un nuovo colpo di Stato, avete ve lo detto in numero altissimo di arresti tra i militari e la promessa da parte del Governo di punizioni severissime. Da calciatore professionista qual era in gioventù Erdogan conosce bene la regola non scritta del gol mancato, gol subito. I militari dopo anni di prontolie e proteste più o meno esplicite hanno cercato di recuperare nel giro di una notte tutto il terreno perduto negli ultimi anni, ma hanno gettato in un bagno di sangue la loro occasione. E ora è lui, il sultano venuto dal nulla, a poter sfruttare il momento favorevole. Nessuno sembra nutrire dubbi sul fatto che lo farà con fermezza e non è detto che non si aggiunga un tocco di ferocia ottomana, in sintonia con una tradizione che nel ventesimo secolo era stata messa in un angolo dall'ideologia del nazionalismo laico dei generali, eredi di Ataturk, il fondatore della moderna Turchia. Si è combattuto anche intorno al nuovo palazzo presidenziale, mentre il sultano prendeva tempo e chiamava il suo popolo alla resistenza. Forse questa notte sarà ricordata come uno spartiacque nella storia moderna del paese, che fu dell'ultimo califo, prima dell'auto nominato al Baghdadi. Un nuovo capitolo, un punto fermo, in un braccio di ferro iniziato con una poesia. Appena eletto sindaco di Istanbul, Erdogan diffuse alcuni versi che riassumevano la sua idea del rapporto con le potentissime forze armate. Le nostre caserme sono le moschee, i nostri almetti le cupole, i minareti le nostre bagionette e abbiamo i fedeli come i nostri soldati. Oggi sembrano parole profetiche davanti alle immagini di civili sdraiati davanti ai carri armati. Il popolo che in piazza si è ribellato al golpe è lo stesso che ha permesso nelle urne a Erdogan di cambiare via via la costituzione laica della Turchia, creando un regime autoritario islamico. Più volte si è parlato di una Turchia asiatica, proletaria e islamica contro una Turchia europea, liberale e laica. Quest'ultima deve aver tentennato al primo sferragliare dei blindati sul dosforo. Meglio il dramma di un golpe o la continuità di un potere che ha represso nel sangue i giovani rivoltosi di Gezi Park, che arresta i giornalisti, che limita le libertà civili. La risposta è arrivata nella notte e ha incoronato il sultano che sogna una ricostituzione in chiave contemporanea del vecchio impero travolto dalla Prima Guerra Mondiale. Sarà lui a giudicare i vinti e a stabilire le prossime mosse per evitare una guerra civile. Lo stato profondo, quello che da un secolo si identificava con i generali, oggi è stato forse colpito al cuore. I custodi della Turchia laica battono in ritirata e sarà lui, il sultano Recep Erdogan, a battere il calcio di rigore, forse decisivo. E allora, una notizia quella del fallito colpo di Stato che naturalmente si è imposta nell'apertura del nostro telegiornale, ma noi dobbiamo, vogliamo dedicare un'ampia pagina del Tg a quello che è accaduto giovedì notte a Nizza, una strage, la strage di bambini, la strage di donne e di uomini, 84 vittime, tantissimi feriti ancora in gravissime condizioni, una città che faticosamente cerca di tornare alla normalità ed è Nizza. Io vado subito a Nizza a collegarmi con la nostra inviata Adriana Bellini. Buongiorno Adriana. Buongiorno Raffaella, è proprio come dici, qui lentamente si prova a tornare a vivere, i caffè di Nizza sono di nuovo pieni di francesi, ma anche dei tantissimi turisti. Le spiagge sono state rieperte anche qui nella Promenade des Anglais, dove mi trovo, teatro della Carneficina, lo vedete alle mie spalle, qualcuno prova a cena, un bagno, forse anche per farsi scivolare da dosso tutto questo orrore. Eppure la tensione rimane ancora altissima, poco fa è stato annullato un omaggio che era previsto alle vittime per ragioni di sicurezza e poi è il giorno del lutto, del dolore, ci sono tantissime persone ancora ricoverate negli ospedali. Il bilancio ufficiale ci racconta di 84 vittime, di 50 persone tra la vita e la morte, tra loro ci sono tanti bambini, perché questa Raffaella purtroppo è stata una strage soprattutto dei più piccoli, di quelli che con meno facilità sono riusciti a mettersi in salvo. Vi dicevo dunque 84 vittime e tante persone di cui non si hanno ancora notizie, tra questi degli italiani. La Farnesina parla di 31 italiani ancora mancanti all'appello. negli ospedali ce ne sono tre che sono ricoverati, uno in grave condizioni, ad un altro è stata amputata una gamba. Degli altri però ancora non si sa niente, il consolato che abbiamo chiamato poco fa si sta cercando di avere il massimo delle notizie. Ci sono persone negli ospedali che cercano di avere notizie dai medici, che comprensibilmente sono trincerati nel loro silenzio, perché la cosa più importante in questo momento è salvare le vite. Però allora io vi lancio subito il servizio del collega Fabio Angelicchio proprio sulle vittime, quelle italiane. Sono 31 i nostri connazionali che al momento dell'attacco terroristico si trovavano nella cittadina francese e dei quali non si hanno notizie. Non possiamo escludere che siano coinvolti i nostri connazionali. Ha detto poco fa il capo dell'unità di crisi della Farnesina, tre funzionari del Ministero degli Esteri sono stati inviati a Nizza. Dovranno incrociare i nomi con le liste degli italiani che erano presenti nella zona. In queste ore ha raggiunto Nizza anche l'ambasciatore italiano in Francia, Gian Domenico Magliano, mentre il console Serena Lippi ha aggiornato la situazione spiegando che sull'identità delle vittime non si sa ancora nulla. Giovedì sera, ha ricordato, c'erano tanti italiani sulla promenade, ma non sappiamo ancora se qualcuno di loro è tra i morti. La lista ufficiale di chi ha perso la vita ancora non c'è, gli accertamenti sono complessi e procedono con lentezza. Tra i dispersi ci sono Angelo D'Agostino e Gianna Musè, la coppia di pensionati di Voghera, rispettivamente di 71 e di 68 anni. In ospedale tre coscienti o con documenti non ci sono, ha scritto su Twitter la nuora della coppia. Nessuna notizia anche di Carla Gaveglio, di 48 anni, di Piasco in provincia di Cuneo. Si trovava con la figlia 14enne sul lungomare. La ragazza, che non ha riportato ferite, ha raccontato di averla vista mentre veniva caricata su un'ambulanza e trasportata in uno degli ospedali della città. Tra gli italiani ricoverati il più grave è Andrea Avagnina di Mondovì in provincia di Cuneo, che si trova in rianimazione per traumi e lesioni interne. Nessuna notizia invece di sua moglie Marinella Ravotti, di 55 anni. Non ha ancora notizie di mia madre, ha fatto sapere la figlia Beatrice, rientrata dalla Spagna, dove lavora come interprete. È ricoverato all'ospedale Pasteur di Nizza Gaetano Moscato, di Chiaverano in provincia di Torino. Ha subito l'amputazione di una gamba, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Così come quelle di una ragazza di 14 anni, di cui non è stata resa nota l'identità, che ha riportato alla frattura di una gamba, ma presto potrebbe essere dimessa. Allora Adriana, rimani collegata con noi, perché ci sono ancora tante questioni di cui parlare, però non possiamo non darvi conto di quella che era attesa già ieri ed è arrivata questa mattina, cioè la rivendicazione, naturalmente da verificare, però è arrivata la rivendicazione sull'agenzia, la loro agenzia di stampa dell'ISIS sulla strage di Nizza. Mohamed Bulel è scritto dal califato, è un nostro soldato. Ci sono però delle fonti di polizia e lo hanno riportato i quotidiani francesi che dicono in realtà appunto l'attentatore non ha stretti legami, non è un affiliato dell'ISIS. Sentiamo. È Alamac, l'agenzia che diffonde al mondo notizie e proclami dell'ISIS a togliere di mezzo i dubbi. 36 ore dopo la strage del 14 luglio porta alla firma dello Stato islamico. E come sempre Sait, il sito privato di monitoraggio dei gruppi terroristici islamici, a diffondere parte del testo in cui Mohamed Bulel viene definito soldato dello Stato islamico, che ha risposto all'appello che incitava a colpire i cittadini nei paesi della coalizione. Un'ora più tardi da Beirut è l'agenzia France Press a confermare quella firma e rilanciata anche dalla radio dell'ISIS al Bayan, uno dei suoi megafoni. Si ribadisce lo status di soldato per il 31enne tunisino e si specifica che ha portato a termine una nuova e speciale operazione usando un camion. Ecco quello che già ieri pomeriggio si intravedeva dietro le parole del procuratore di Parigi François Moulin quando sottolineava che l'azione non era stata ancora rivendicata ma corrispondeva esattamente agli appelli a colpire e uccidere arrivati dalle organizzazioni terroristiche. Anche lui allora ricordava parola per parola quella chiamata lanciata via radio prima dell'inizio del Ramadan, il 21 maggio, la voce riconosciuta come quella di Mohammed al-Adnani vicinissimo ad al-Baghdadi. Si era così scomodato uno dei capi storici dell'ISIS per infuocare in 31 minuti i lupi solitari. Quello che può fare ciascuno di voi nelle terre dei non credenti è migliore e più duraturo di quello che potreste fare stando qui con noi che desideriamo essere nei vostri posti per punire i crociati giorno e notte. Un invito che Mohammed Bulel potrebbe aver ascoltato e messo in atto con Solerzia colpendo quando finiva la sera di festa e iniziava la notte sulla costa azzurra. Il buio degli attacchi di novembre a Parigi, anche quelli rivendicati dallo Stato Islamico e l'appello al terrore lanciato prima del mese sacro avevano avuto come primo effetto quello di concentrare il lavoro dell'intelligence delle forze di sicurezza francesi durante le settimane degli europei di calcio. La chiamata di morte non sarebbe stata dimenticata. Passato il clamore, un altro lupo solitario sarebbe stato dunque pronto come per gli ultimi attacchi negli Stati Uniti, le stragi di Orlando e di San Bernardino maturate a migliaia di chilometri dallo Stato Islamico dai bombardamenti della coalizione anti-ISIS, maturati appunto di fronte allo schermo di un computer. Allora, sul profilo dell'attentatore si è detto in queste ore si è scritto molto, un profilo che non assomiglia, e questo è vero, ai profili di altri terroristi che hanno agito in altri attentati. Un cane sciolto, un lupo solitario, agito da solo, sono le domande a cui deve rispondere. Un'inchiesta naturalmente che è stata aperta sulla strage di Nizza, è stata fermata la moglie del 31enne tunisino e ci sono altri arresti. Allora facciamo il punto sulle indagini. La procura di Nizza annuncia di aver arrestato ed interrogato quattro uomini, dei quali non ha svelato l'identità nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato di giovedì. Il procuratore della Repubblica, François Moulin, ha confermato che da ieri è in stato di arresto anche l'ex moglie di Mohamed Laouiche Bouclel, il 31enne franco tunisino autore del massacro, ucciso dalla polizia nello scontro a fuoco finale. La rivendicazione dell'ISIS non cambia lo scenario, per gli inquirenti l'ipotesi è quella del lupo solitario. L'autore della carneficina sulle promenade des Anglais, Bouclel, sarebbe legato all'islam radicale. Un uomo segnato e instabile, depresso e scontroso a causa dei debiti, della separazione e dell'avvio delle procedure per il divorzio, a detta di chi lo conosceva. Abitava in questa casa la periferia di Nizza perquisita dalla polizia francese. Tunisino arrivava da un villaggio a 10 chilometri da Sus, località turistica teatro dell'attacco jihadista del giugno dell'anno scorso. Emigrato in Francia nel 2011 aveva ottenuto un permesso di soggiorno proprio grazie al matrimonio con la donna franco-tunisina arrestata ieri. Con lei aveva avuto tre figli, ma nel 2012 si erano separati e ora stavano per divorziare. Suo padre sarebbe un seguace del partito islamista Ennada. Sconosciuto ai servizi segreti francesi, Bouclel non era sotto sorveglianza per radicalizzazione né era stato in prigione, che è spesso a scuola e palestra di jihadismo. Qualche precedente penale lo aveva, ma solo per reati comuni. Violenza a mano armata, furto, violenza coniugale e minacce. Condannato a marzo per rissa dopo un incidente stradale, era in libertà vigilata. I vicini lo descrivono come un tipo solitario e silenzioso che non seguiva pedissequamente tutti i precetti dell'islam. Autista per una società di consegne, secondo Nais Mathen, Bouclel aveva ottenuto la licenza per guidare i camion poco prima dell'attentato ed aveva affittato il tir con cui ha compiuto la strage lunedì scorso, con l'impegno a riconsegnarlo due giorni dopo. E poi c'è un'altra grande questione che questa storia ci deve far affrontare, che è quella della sicurezza. Il Premier Valls ha detto che non ci sono state falle, però quello che è vero è che la Francia in questi mesi ha dovuto invece fare i conti con tantissimi, troppi episodi di sangue. Anche in questo caso le polemiche sulla sicurezza ci sono e come? È così, Adriana? Sì, assolutamente. Ci sono moltissime polemiche. Poco fa c'è stato a Parigi il Consiglio di Sicurezza del Presidente Hollande che ha riunito attorno a sé tutto il governo e gli interi tutti i ministri. Insomma, si è concluso. Ancora non c'è stata una conferenza stampa. Sapremo di più, avremo qualche notizia in più forse sul fronte dell'inchiesta. Stiamo vedendo le immagini, Adriana. Ecco, forse vedete le immagini dell'Eliseo. Sì, le immagini dell'Eliseo. Perché questo è un tema cruciale. Insomma, tutti i testimoni, anche quelli che noi abbiamo ascoltato in questi giorni nelle nostre dirette televisive, ci hanno parlato obiettivamente di poca polizia, di spiegata per un appuntamento così importante, in un giorno così simbolico come il 14 luglio qui a Nizza. Oltretutto Nizza, questo è bene saperlo, è una città importantissima che ha sventato attacchi terroristici numerosi negli anni scorsi. Ed è da qui che sono partiti moltissimi degli jihadisti che attualmente si trovano in Siria ed Iraq. Non è dunque di certo un posto qualunque, ma tutti hanno raccontato di un dispositivo di sicurezza che forse era carente. Questo naturalmente lo dirà sicuramente l'inchiesta. Il camion è potuto passare e correre velocemente per due chilometri, pressoché indisturbato. Dunque, questa polemica esiste. Hollande si difende, è attaccato naturalmente dalle destre. Questa volta non c'è stata la cosiddetta unità repubblicana attorno al Presidente nel lutto. Hollande è attaccato da chi sostiene che il suo pugno di ferro non sia abbastanza deciso e che debba lo Stato francese essere in un'emergenza quasi permanente. Infatti lo Stato di emergenza, tra l'altro, era stato revocato proprio poche ore prima di questi fatti drammatici qui a Nizia. Adesso è stato prorogato per altri tre mesi. Insomma, tutto questo ce lo dirà sicuramente l'inchiesta nei prossimi mesi. Grazie, grazie Adriana Bellini. Buon lavoro. Intanto, prima di passare a un'altra notizia, vi leggo perché stanno arrivando naturalmente le dichiarazioni del Consiglio di sicurezza che si svolge a Parigi, di cui ci parlava Adriana Bellini. Ha parlato il Ministro dell'Interno, Kasnev, che ha detto che l'attentatore di Nizza non si era distinto negli ultimi anni per un'adesione alla ideologia islamista radicale, ma sembra che si sia radicalizzato molto rapidamente. Questo ha detto proprio poco fa Kasnev. Naturalmente aggiornamenti nel corso delle prossime edizioni. Noi adesso andiamo a raccontarvi dell'altra strage, la strage di casa nostra in Puglia. All'incidente ferroviario e oggi ci sono stati i funerali di alcune delle vittime. Ne parliamo subito dopo la pubblicità.